perché è un po' quello è lo stile, comunque sia, allora questo ad esempio è un vino di cui vi ho parlato in un altro video, dove comunque al palato non è di quelli, è un vino che ha delle asperità, quindi ha questa acidità appena appena spiccata, ha un tannino un po' legnoso e si sente il tannino legnoso, vi faccio vedere la bottiglia, però qual è il concetto? Il concetto è questo, che se tu bevi questo vino così, da aperitivo, ci sta col vino rosso in un bar e non ci mangi niente, questo vino ti crea, magari non ti piace più di tanto, per intenderci, ma se tu abbini questo vino a una cosa come questa, questo è il famoso salame di Brenton di un metro e venti, vedete? Guarda, guarda che roba, quelli di Brenton, guarda, lo vedete? Ecco, lo abbini a una cosa come questa, ok, che effettivamente è veramente impegnativa, ecco, ecco, vi faccio vedere, vedete? Ecco, in questo caso l'abbinamento non è perfetto, ma è ottimo, perché quella leggera sensazione tannica, quella acidità che un attimino spinge in certi punti, con una cosa come questa, che è assolutamente, tendenzialmente grassa, ti lascia la bocca unta, è perfetta, ok? Quindi, quando giudicate un vino, cercate anche di immaginarvelo in una condizione di uso, immaginatevi i vini in una condizione di uso, perché? Perché in questo modo riesci veramente a far la tara, della serie, questo non lo bevo come aperitivo, però me lo porto, oppure non lo bevo col finger food, no? Non lo bevo con quelle cazzatine lì, però me lo porto a casa, no? Nell'ipotesi, e me lo bevo con una cosa come questa, perché è tendenzialmente grassa, eccetera, eccetera. Quindi, questo, questo intanto per attirare la vostra attenzione, per coloro di quali piacciono le cose abbondanti, lunghe, ma anche per dirvi, appunto, quando giudicate un vino e magari sul momento non vi piace, allora un conto è se andate a fare i concorsi, come a volte capitava anche a me spesso, quindi sei un giudice e devi giudicare il vino per quello che è, ma devi avere una scheda tecnica ben precisa e quello ci sta, è un'altra cosa. Ma però, tu che sei un normale consumatore e spesso magari non sei neanche tanto informato, perché magari ti prendono anche per il culo, come spesso mi capita di vedere anche da quello o di leggere da quello che mi scrivete, cerca sempre di immaginarti quel vino, come lo useresti? Cioè, fatti la domanda, questo vino qui, ok, lo posso abbinare a che cosa? Se me lo porto a tavola, questa acidità che spinge, questo tannino, mi può essere utile? Risposta, sì, ti sarà estremamente utile, perché hai bisogno di pulire il palato, hai bisogno di preparare il palato a un nuovo sorso, ok? Vabbè, sta di fatto che noi oggi ci giochiamo a questo, è un lavoro duro, molto duro. Ciao ragazzi! Ciao ragazzi!